io so che se dovessi scrivere anzi lo faccio super wallpaper trovo domande come non esiste il super wallpaper mi nome light si è aggiornato a miui qualche settimana fa e non vedevo l'ora purtroppo mancano i super wallpaper usando i super wallpaper ho rilevato un consumo di batteria anomalo ho aggiornato a miui 12 il mio mi note 10 ma dei super wallpaper neanche l'ombra oggi si è aggiornato il mio mi 9 light stupendo ci sono i super wallpaper no peccato come si attivano questi stravaledetti super wallpaper bene a tutto questo casino di domande c'è una risposta anzi più d'una all'interno di questo video quindi vi invito fin da ora a lasciare un like se vi è utile al vostro scopo quindi a quello di ottenere i super wallpaper sul vostro device che può essere non solo xiaomi redmi poco ma anche di altre marche samsung oneplus beh dopo la sigla vediamo tutto quanto beh sapete meglio di me che tanti xiaomi e redmi non sono in lista per ricevere ufficialmente i super wallpaper o è perché questi device sono un po vecchiotti quindi hanno un hardware un po datato o magari sono anche recenti però non sono sufficientemente potenti quindi evidentemente xiaomi ha deciso di non implementare o meglio dire non attivare questa funzionalità fantastica fighissima su questi device per non appesantirli per non minare troppo l'esperienza d'uso e sono d'accordo su questa scelta però di questo ve ne parlo più in là ma mi intrigava un sacco l'idea di portare questi sfondi animati anche su altri dispositivi appunto adesso vedete giusto giusto per non farci mancare niente ah qua un po di device e tutti loro li ho testati per vedere come funzionano questi super wallpaper per vedere un po la compatibilità e devo dire che ci sono delle grosse differenze alla fine vediamo se me le ricordo tutti galaxy a41 galaxy s10 plus pixel 4xl redmi note 7 realmi 6 oneplus nord mi 9 light huawei nova 5t asus zenphone 7 pro huawei p40 light concludo con moto g 5g plus ci sono un po tutte quante le marche tra l'altro avete anche notato p40 light che ha gli hms si in qualche modo si può fare bisogna fare un po le gira volte ma vi farò vedere tutto perché adesso vi faccio vedere il procedimento e appunto parlando di procedimento ho diviso un po il video in due parti due guide separate la prima che è per device xiaomi redmi e poco phone che non sono in lista ufficiale per il super wallpaper perché abilitarli su questi dispositivi è molto più semplice per tutti gli altri c'è la guida numero 2 c'è da ricordare che per qualsiasi smartphone vale il fatto che questo deve montare android 8 o successivi perciò per questa prova mi avvalgo di mi 9 light e redmi note 7 in descrizione trovate anche la guida scritta di utenti xiaomi italia con tutti quanti i link che vi occorrono così insomma avete tutto ben organizzato e anche un riferimento scritto nel caso vi dovesse servire prima cosa da fare dal play store scaricate e installate activity launcher fatto questo scaricate gli apk dei wallpaper c'è marte terra e saturno che è quello che avevamo visto su mi 10 ultra sono dei semplici apk che occorre installare ma non dovete per forza scaricarli tutti se volete scaricare solo marte o solo saturno o solo la terra insomma potete tranquillamente farlo fatto questo aprite adesso activity launcher e nella barra di ricerca scrivete wallpaper le scorrete fino a che non trovate l'iconcina blu e bianca con la scritta super sfondi e questo fa riferimento alla pk che avete installato prima ora basta che selezionate lo sfondo che volete lo applicate e il gioco è fatto e adesso ve lo voglio far vedere live su questo mi 9 light eccolo qua in questo caso ho impostato lo sfondo della terra e guardate sembra praticamente la stessa identica cosa degli sfondi sviluppati implementati ufficialmente sui device supportati funziona tutto il cambio pagina sulla home cambia la prospettiva dello sfondo che ovviamente 3d anche l'always on display attenzione funziona e questa è veramente una chicca che solo questo metodo di installazione sfondo vi da non ho notato particolari problemi intesi come blocchi crash simili tra l'altro state vedendo che ci sono proprio tutti gli sfondi a disposizione anche proprio gli ultimissimi usciti e ecco questa è una differenza rispetto alla guida numero 2 che adesso vi faccio vedere per gli altri device restanti che possono avere a disposizione un minor numero proprio di sfondi perché il procedimento cambia le app e gli apk da scaricare cambiano perciò metto via loro 2 e vediamo la guida numero 2 in questo caso sfrutterò pixel 4 xl solo perché mi piace esteticamente non peraltro qui trovate tutti i link che vi servono in descrizione che puntano al sito mega e qui all'interno ci sono varie cartelle con le varie ambientazioni c'è marte c'è la terra c'è anche saturno e ogni cartella per ogni scenario ha dentro altre cartelle default dove ci sono gli sfondi che cambiano chiaro scuro scuro chiaro in base all'ora del giorno always light quindi solamente sfondi che rimangono sempre chiari e brillanti come durante le ore del giorno oppure always dark e quindi tutto molto più cupo come se avessi uno show me e questo lo andassi ad usare durante la notte ma insomma individuate scaricate la pk che più vi interessa fatto questo dal play store adesso installate l'app sfondi di google quindi è sicura non c'è nulla di cui preoccuparsi tutte le app che vediamo in questo video sono sicure la avviate trovate la sezione sfondi animati e lì selezionate il wallpaper che avete appena scaricato e lo impostate ora però attenzione perché vedete che su pixel 4 xl funziona tutto alla perfezione c'è lo sfondo animato sulla lock screen c'è sulla schermata home se cambio scheda della home cambia prospettiva però potrebbe non essere sempre così mi spiego potrebbe capitare che quando io scorro tra le varie schermate della home lo sfondo non cambia prospettiva rimane piantato fisso come se fosse un'immagine normale può succedere che cosa è bene fare andate ad impostare uno sfondo che può essere anche una foto però abilitando lo scorrimento se vi è possibile vi dico se vi è possibile perché per esempio con device samsung questo non è attuabile il che vuol dire che lo sfondo una volta terminata l'animazione iniziale ve lo terrete statico poi tornando a noi se siete riusciti a fare questa operazione che vi ho detto adesso potete risettare il super wallpaper sempre dall'app sfondi di google e dovrebbe andare tutto liscio attenzione però perché potreste accorgervi anche di un altro problema cioè l'animazione del super wallpaper non appare nella lock screen solo nella home screen capita in questo caso vi consiglio di fare come avete fatto adesso solamente andate ad impostare temporaneamente diciamo uno sfondo live uno sfondo animato tra quelli predefiniti del telefono e dopodiché tornate su sfondi google e reimpostate il super wallpaper ma attenzione ancora perché se metto via il mio 4xl e vado a prendere p40 light che ha hms questa metodologia non va bene perché perché non potete scaricare sfondi google non c'è il play store allora cosa vi consiglio di fare andate su apk pure che è uno store di app e da lì scaricate sfondi google e allora poi potrete fare tutto il procedimento che vi ho già fatto vedere l'unica cosa che segnalo almeno su huawei non sono proprio riuscito a mettere il super wallpaper nella lock screen non c'è verso rimane quello stock o comunque quello che impostate voi precedentemente e non c'è verso di cambiarlo non so veramente come fare se avete qualche suggerimento magari fatemelo sapere nei commenti però veramente l'ho provato tutte detto questo dovreste aver risolto tutto quanto bene o male ovviamente non c'è l'always on display per i device non xiaomi non redmi il funzionamento generalmente è un po' più goffo e potrebbero subentrare diciamo delle problematiche durante l'utilizzo appunto per i device non xiaomi non redmi cosa vi consiglio di fare di togliere l'always on display perché? perché se lo tenete attivo quando spegnete lo schermo dovete attendere qualche secondo prima di poterlo riaccendere e vedere lo sfondo funzionare correttamente altrimenti magari si impalla si blocca dovete spegnere attendere un attimo che l'animazione dell'always on finisca per poi accendere il nuovo display ovviamente se siete disposti a fare questo sacrificio lo fate altrimenti pazienza o magari potrebbe rimanere proprio inchiodato e non funzionare più in quel caso bisogna proprio riavviare il telefono è una gran ruotura di scatole raramentissimamente mi è capitato su un paio di device che sinceramente non ricordo tra tutti questi che ho qua tra tutti loro non so quale ne mancano ancora al di là di questo fate attenzione che su qualsiasi telefono soprattutto magari quelli più datati i super wallpaper possono incidere un po' sulle prestazioni un po' sulla batteria perché comunque abbiamo uno sfondo animato 3d che deve continuamente essere processato computato e quindi per quanto poco è un consumo di risorse continuo però sono fighi da vedere questo va detto e ribadito se volete vedere altri video come questo fatemelo sapere sempre con un like ma anche con un commento se avete suggerimenti, idee voi scrivete che poi io ci penso se vi iscrivete al canale attivate la campana e noi come sempre ci vediamo in una prossima produzione quale uso? questo ciao